E' un appello struggente e pieno di umanità quello di Kalina Soliak, 33enne giovane dell'Ucraina, che da Pescara chiede aiuto per la sua gente, soprattutto per la sistemazione di tanti orfani. Alcuni bambini fuggiti alcuni giorni fa da un affanotrofio per scappare dalle bombe sono riusciti a lasciare il paese, altri sono invece rimasti e sono stati sistemati in case famiglia. L'appello riguarda anche la sistemazione di tante persone che stanno arrivando dal paese e soprattutto di mamme con bambini piccoli. Abbiamo trovato tantissime famiglie disponibili a accogliere questi bambini, siamo davvero tanti. Ieri erano 150, quello che è l'informazione, ieri al confine. Adesso stanno al sicuro, non sappiamo dove adesso sono, però stanno al sicuro, questo è importante, che stanno al sicuro. La situazione cambia per altri bambini che non riusciamo a portare al confine, perché per tanti motivi, burocratici, logistici, dobbiamo fare in fretta in questo momento, non possiamo stare tutto questo tempo, non abbiamo tempo. arrivano anche, vorrei chiedere a persone se mi possono contattare per sistemare, anche dare un sostegno alle mamme con bambini, con un bambino che possono ospitare, una mamma con bambino, dare un appoggio, un appoggio, un appoggio, un alloggio. Incredibile, quante persone vogliono aiutare, il popolo italiano è meraviglioso, grazie di tutto, però cerchiamo anche di fare qualcosa per queste mamme che hanno abbandonato tutto e non hanno niente. La situazione è davvero critica e dobbiamo fare in fretta. Chi può aiutare, in qualsiasi modo mi contatti. Possiamo dare un riferimento per il contatto? Sì, mi mandi un messaggio con scritto nome e cognome disponibile, o ospitare un bambino, metto in una lista, o ospitare mamma con bambino, metto in un'altra lista. Qualsiasi disponibilità, anche di cose che mandiamo necessarie, qualsiasi cosa. Chi può aiutare, aiuti. Grazie.